Ricorrerà il 15 settembre di quest'anno il settantesimo anniversario della Costituzione del territorio libero di Trieste, quale previsto dal Trattato di Pace sottoscritto a Parigi il 10 febbraio 1947. Ed in vista di questa ricorrenza, ma soprattutto in preparazione alle elezioni regionali previste per la primavera del 2018, è stato presentato stamane un nuovo contenitore politico, la Federazione per l'Indipendenza del territorio libero di Trieste, che si pone l'obiettivo primario di modificare l'assetto istituzionale della regione. Con questo fine nella federazione sono stati coinvolti ed hanno aderito movimenti indipendentisti friulani, nonché anche attuali amministratori. Noi avevamo lanciato qualche mese fa questa idea di trasformare questa regione sul modello del Trentino Alto Adige in due province autonome, quella del Friuli e quella di Trieste. È un modello che funziona meglio e costa meno e interessa sia al Friuli che appunto agli autonomisti triestini, per cui ci siamo uniti, non per dividersi, ma ci siamo uniti per creare una regione diversa. Promossa dal movimento indipendentista guidato da Giorgio Marchesic, alla federazione, hanno aderito il movimento donne Trieste, gli italiani del TLT, la Lega del territorio libero di Trieste e Trieste Asburgica. E l'alleanza tra movimenti indipendentisti di Trieste del Friuli, sottolinea Cristina Pozzo, presidente del movimento Nuova Opera Indipendentista di Udine, si basa su un'unica consapevolezza, uniti si può vincere. Fino adesso i vari movimenti si sono divisi e questo non ha portato a un risultato, ma ha portato a una maggiore centralizzazione da parte di Roma. Noi vogliamo invece buttarci alle spalle questi personalismi e questi capricci e vogliamo essere uniti per poter fare poi uno stato libero indipendente in Friuli, Venezia e Giulia. L'incontro di Stamane è stato anche l'occasione per nominare Walter Brumat, l'edicolante che mercoledì ha consentito l'arresto del rapinatore del negozio Benetton di Via Roma, cittadino benemerito del TLT per meriti civili.